ciao a tutti faccio questo brevissimo e velocissimo video perché volevo farvi vedere degli acquisti che ho fatto oggi da Essence ho altri video da farvi scusate i capelli ma sono in condizioni ho fatto lo shampoo ieri con la seconda come vedete ha scaricato ma finalmente ha pigmentato e ha tolto quei riflessi rossi che avevo sono riuscita anche a pulire un po' di più la cute spero che vada via il terzo shampoo allora oggi dicevo sono stata alla Essence da scarpe scarpe a comprare le scarpe per il matrimonio che ho i primi di giugno c'è anche il boxettino della Essence da scarpe scarpe e sono riuscita a prendere alcune cose c'è una nuova collezione che si chiama Live in Loud Live Loud veramente celebrate ed è praticamente una collezione di celebrazione penso dei dieci anni della Essence o forse anche di più non so fondamentalmente allora ho preso la palettina vuota che guardate che carina è ipnotica è praticamente c'è un doppio vetro con tutte queste palline che spero non si rompa perché altrimenti queste palline finiranno tipo nella stratosfera le palline sono tutte scusate il riflesso sono tutte colorate è troppo troppo carina allora di questa palette c'era la palette grande è da 8 è quella a 4 allora io ovviamente ho preso quella grande da 8 perché ho preso qualche ovviamente la palette è vuota vedete è dove si possono mettere le monocialde questa è costata 2,49 euro è veramente carinissima come cialde ho preso quelle che mi piacciono di più perché c'erano anche altri colori ma c'erano allora blush in varie tonalità gloss non mi interessavano qualche ombretto e qualche illuminante è una cialda di cipria ma non mi interessa perché la cipria io la tengo nella e ho preso due blush che sono molto carini sono bellissimi ora non so se riuscite a vederlo ecco questo è il 01 Rhythm of the Night Rhythm of the Night scusate il mio inglese ma è uno shimmer blush ne ho preso due uguali perché il blush è veramente delizioso è stupendo io il blush della Essence li adoro poi ho preso un questo loro li chiamano lip powder serve per fare ma io non l'userò come rossetto ma l'userò come ombretto è stupendo mi serve per il matrimonio perché ho la gonna esattamente di questo colore poi ho preso un altro ombretto che vira sul viola ovviamente perché io sono fissata con i viola poi ho preso un altro ombretto questo è un prugna molto intenso stupendo poi ho preso un altro ombretto per fare il punto luce a questo rosa pallido molto bello un illuminante questo illuminante è favoloso è un non è nemmeno un dorato è un pesca molto iridescente perché c'era anche un dorato ma non mi piaceva perché era troppo finto com'è è un altro ombretto questo ombretto è argentato serve sempre per il matrimonio perché io ho tutti i particolari in argento di questo vestito gli ombretti sono stati in monoscialda 1,89 euro e ne ho presi 8 proprio per completare la palette perché c'erano altre cose ma non erano colori che mi piacevano c'erano altri colori ma non erano i colori miei diciamo poi ho preso il kabuki della nuova collezione dei pennelli essence questo è stato 4,89 euro scusate qua di lato lo scontrino questo è stato 4,99 euro quindi 5 euro il kabuki è uno dei pennelli più cari ma mi serviva perché il mio è andato in malora non funziona più lo butterò via perché si è indurito si è tutto spelato ha più di 5 anni quel kabuki lì quindi e un'ultima cosa l'ultima che mi mancava l'ultra last lip liner mi mancava l'ultima e l'ho presa questo è il colore 1 lavender blender è praticamente un color lavanda e questa è stata tutta la mia spesa da essence io questa palettina la adoro cioè è una meraviglia divertentissimo tra l'altro io non avevo palette di queste vuote che possono essere riempite perché ne avevo viste alcune della neve alcune della kiko ovviamente non sono paragonabili neve e kiko però erano quelle che avevo visto però la palette in sé vuota costava molto di più e questa è molto più carina cioè questa è veramente carinissima bene con gli acquisti essence ho concluso ho molte cose da farvi vedere perché ho fatto parecchio shopping in questi giorni però vi farò il video in settimana perché sto aspettando che mi arrivi il pacchettino dalla Francia dei prodotti della NYX dei 4 rossetti della NYX che ho preso ancora non sono arrivati purtroppo lui dice 5-7 giorni lavorativi io ho fatto l'ordine il 2 oggi il no ho fatto l'ordine il primo maggio sì mi ricordo di sera quindi c'era il primo maggio di mezzo è vero che è festa solo da noi però mi sembra una domanica no lunedì comunque l'hanno processato è spedito il 3 è arrivato in Italia il 5 quindi oggi ovviamente il sabato i corriari non lavorano di conseguenza penso mi arriverà lunedì spero mi arriverà lunedì e vi farò l'unboxing bene io vi saluto vi auguro un buon fine settimana al prossimo video ciao ciao